Allora Belva, stasera ne abbiamo difese parecchie in seconda linea, soprattutto tre punti importanti, soprattutto una buona prestazione dopo il weekend di Coppa Italia, soprattutto il quarto posto riconquistato, insomma è una serata positiva questa? Ma sì, di sicuro è una serata positiva per tutte le cose che hai detto, veniamo da una... Ho scordato qualcuno? No, penso che no, da una sconfitta che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca in Coppa Italia, nonostante poi Modena abbia vinto meritatamente il trofeo, comunque uscire da una Final Four ti lascia sempre un po' di rammarico, quindi al di là di tutto il rammarico c'era, siamo scelti in campo credo abbastanza concreti fin dall'inizio, siamo stati bravi a tenere il nostro gioco, a tenere Padova sotto e quindi abbiamo preso tre punti importanti per la classifica, ce lo siamo detti, noi dobbiamo cercare di vincere le più partite possibili per puntare appunto ai piani alti della classifica, terzi, quarti, quinti, secondi, non lo so, primi, ma dobbiamo pensare partita dopo partita a quello che ci aspetta e andare avanti così. Ho impressione da bordo campo, dal punto di vista fisico ho visto una squadra meglio rispetto alle ultime uscite, c'è Russell che ormai è prossimo al rientro, recuperare tutti gli effettivi al meglio per la fase finale della stagione è fondamentale. Ma guarda dal punto di vista fisico credo che sia che si vinca che che si perda sia un argomento da non tirar fuori, lo sappiamo è così, ne siamo consapevoli noi, ne è consapevole chi sta sopra di noi, però purtroppo the show must go on, ahimè a volte qualche giocatore ci rimette perché è chiaro questi ritmi a livello fisico sono molto stressanti, però purtroppo questo è il nostro lavoro e dobbiamo farlo sempre al massimo. Delle volte ovviamente si vede perché penso che tutti vedano che le squadre hanno dei momenti di cali fisici importanti, però c'è poco da fare, è così e quindi si va avanti, cercheremo di essere al top nei momenti importanti, abbiamo ancora due trofei in palio quindi dobbiamo rimanere sul pezzo. Allora con Cristian ne ho parlato della partita di Chef Cup, con Mosca con te parlo delle prossime gare di campionato, due trasferte difficili secondo me, come lo era questa con Padova a Monza e a Molfetta e poi per la Modena. Direi che le due trasferte che ci attendono domenica prossima e fra due domeniche sono dal punto di vista della classifica, visto che ormai mancano poche giornate alla fine della regular season, sono fondamentali per il nostro posto nei play-off. Sì, è un mese... Forse più della partita con Modena intendo. È un mese importante, al di là della Chef che ne hai parlato con Cristian prima, andiamo a giocare contro una squadra che comunque gioca bene, soprattutto in casa, avranno da riscattare la sconfitta nel derby e poi non so cosa hanno fatto oggi. Stavano giocando ancora. Non lo so, però sono comunque una squadra abbastanza quadrata. E dopo questa... Vabbè, in Mosca sappiamo tutti quello che sarà. Poi Molfetta sarà durissima perché sono una squadra aggressiva, tecnicamente valida, in casa loro sappiamo l'ambiente che ci aspetterà, quindi sarà veramente dura. Sarà un momento importante per noi, sia dal punto di vista tecnico che di squadra, per vedere a che punto siamo. Grazie Andrea. Grazie.